Paese che vai, sempre stesse usanze troverai. È passato un anno da quando Anthony Fauci ha ammesso che le iniezioni contro il COVID19 non funzionano, ma questa rivelazione viene ancora ignorata. L'11 gennaio 2023 un articolo intitolato Ripensare alle iniezioni della prossima generazione per il corona con le iniezioni influenzali e altri microorganismi respiratori è stato pubblicato sulla rivista Cell Host and Microbe. Fauci, ritiratosi dal servizio pubblico alla fine del 2022, è stato uno dei suoi tre autori. Ovviamente anche in America succedono le stesse cose come sono successe e forse succedono ancora in Italia quando si ha l'immunità se si fa parte del governo. Ma anche e soprattutto come cittadino a cui la maggioranza degli italiani ha conferito l'onere e la responsabilità di guidare il paese. Proprio perché lei ha la guida di questo paese io credo che gli italiani abbiano il diritto di sapere se lei... Dottoressa, lei sta attaccando me come presidente del Consiglio e questo a un magistrato non può essere concesso. Infatti Fauci era ancora il principale consigliere medico del presidente Biden e direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases quando era coautore dell'articolo. Ma in America cosa succede quando si viene portato in tribunale? Nel video che segue il senatore Ron Johnson spiega come molte informazioni su Fauci, comprese molte delle sue email, siano ancora riservate. Per conoscenza FOIA significa Freedom of Information Act, in italiano legge sulla libertà di informazione. Queste sono le email di Anthony Fauci e ancora una volta rilasciate sotto la foia, in altre parole qualcuno doveva andare in tribunale. Anche se membri del congresso abbiamo il diritto di vedere queste cose, qualcuno ha dovuto portarle in tribunale e una volta rilasciate, circa 4.000 pagine, abbiamo richiesto versioni non censurate di queste cose l'11 giugno 2021. A luglio abbiamo ricevuto sostanzialmente le stesse 4.000 pagine oscurate. A settembre 2021 ne abbiamo richiesto solo 400 su 4.000. Abbiamo rispetto la nostra richiesta. In ottobre 2021, a gennaio 2022, ci hanno permesso di guardare 50 pagine alla volta in una sala di lettura. Non potevamo fare copie, potevamo solo prendere appunti. Siamo alle ultime 50 pagine. Non le rilasceranno, sono passati quasi due anni. Questo è quanto ci è stato fornito. Pensate che ci possano essere informazioni incriminanti in questo? Ancora, questi sono documenti governativi, sono documenti governativi federali. Questo dovrebbe essere messo a disposizione del congresso, dovrebbe essere messo a disposizione del pubblico americano. Ma non è così. Le email di Fauci. Prima di postare qualsiasi commento invito a visitare la pagina Indice Alfabetico, di cui trovate il link nella descrizione del video, con a disposizione migliaia e migliaia di spiegazioni. Qualsiasi domanda, come ad esempio stagioni, sole che rimpicciolisce, luna capovolta, stelle al sud, perché non vedo fino in America, effetto Corioli, pendolo, perché mentono, eccetera, dove esiste già la risposta, viene cancellata.